ben trovati amici iniziamo la giornata insieme oggi è giovedì 27 gennaio 2022 il sole sorge tra poco alle 7 29 tramonterà oggi pomeriggio alle 17 e 12 le giornate un pochino si allungano sempre di più diamo un'occhiata subito così come è bello iniziare la giornata a vedere il santo del giorno e vediamo che è una santa sant'angela merici sant'angela merici nacque a desenzano sul garda in italia nel 1474 si dedicò alla preghiera fin da piccola e rifiutò ogni proposta di matrimonio nonostante ne ebbe molte dedicandosi soltanto a dio si narra che ebbe molte visioni e ne vediamo qui nel disegno che è stato fatto infatti vide anche una scala su cui salivano e scendevano angeli e vergini fondò l'ordine delle orsoline suore che si dedicarono soprattutto alla educazione delle giovinette morì nel 1540 e fu sepolta nella chiesa di sant'afra a brescia dove presso il suo sepolcro si dice sempre accaddero molti molti miracoli e noi invece vediamo subito la le previsioni del tempo sperando nel bel tempo infatti il bel tempo si mantiene si mantiene perché le previsioni dicono che sulle marche sarà stabile il sole con nebbie però e banchi di foschie tra notte e mattino su aree litorane e pianeggianti solleggiato invece altrove sulle coste il vento spira debolmente da ovest e sull'interno invece da sud ovest le temperature sono in calo nella nostra provincia variano da un grado a 7 gradi vediamo subito ora le notizie del giorno a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano ma anche il carlino apre sullo stesso argomento ovvero ci sono novità per quanto riguarda la polemica della collaborazione o della fusione di aset con marche multiservizi fusione ora c'è la proposta di mms di marche multiservizi intitola il corriere ed è emersa una trattativa segreta che era in vigore da più di due anni un'istanza di aggregazione con aset inviata tutti i comuni soci ecco lo studio di era del settembre delle 2019 insomma nell'ultima riunione della commissione garanzia e controllo si è sempre negato che esistessero dei documenti per quanto riguarda la fusione in realtà da quanto dicono i giornali oggi questi documenti esisterebbero era una proposta di marche multiservizi che l'aveva formalizzata e che l'ha formalizzata proprio ieri ai sindaci di fano e ai rappresentanti di altri 13 comuni del territorio nello stesso tempo spunta lo studio riservato ed è questo appunto il documento che doveva esserci che era negato che ci fosse l'aggregazione tra aset e marche multiservizi elaborato dal gruppo era nel 2019 è oggetto di una trattativa tenuta segreta per oltre due anni insomma ieri mattina all'ufficio protocollo dei comuni di fano ma anche di cantiano cartoceto colli al metauro fossombrone isola del piano mondavio mondolfo monteporzio montefolcino pergola pensate ancora santipolito san costanzo e terre rovere è pervenuta la proposta di aggregazione formale tra le due principali aziende dei servizi pubblici della nostra provincia insomma ora le cose si complicano perché c'è una polemica in atto specialmente nel comune di fano dove abbiamo le minoranze che contrastano questa fusione invece all'interno della maggioranza ci sono aperture nei confronti di marche multiservizi vedremo come andrà a finire un riquadro a fondo pagina invece dedicato al digestore in sei anni niente scelte qui il comune ha latitato forse colpevolmente è un altro problema viene poi sviscerato dal corriere adriatico questa mattina è quello del completamento della fano grosseto sì perché c'è stata una novità c'è stato l'incontro dell'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli con il ministero e si sono incontrati con i tecnici dell'anas praticamente vediamo il titolo del corriere è 78 l'anas si rielaborà il progetto per mantenere l'ipotesi di quattro consiglie sembra che ci sia un cedimento da parte di anas e del ministero che aveva prefigurato un completamento a sole due corsie invece dopo le istanze di tutti i sindaci del territorio può darsi insomma che questo progetto venga rivisto e si così e si attui l'alternativa delle quattro corsie così come dovrebbe essere a completamento di quello che è stato già fatto e qua abbiamo invece un caso particolare di un filatelico ovvero di mauro paolini che è un collezionista di franco bolli che partecipa alle aste sul web però qualche volta capitano delle fregature e qui paolini insorge dice siamo degli appassionati lo facciamo così per diletto ed essere fregati per pochi euro perché poi le aste che ci sono sul web dove si vengono piccoli lotti di franco bolli sono aste con importi minimali insomma dispiace perché si pecca più che la tasca più che il soldo l'orgoglio di una persona una passione innocente aste sul web ma con la truffa e poi abbiamo il raggiro dei franco bolli che viene messo in evidenza come esempio il gronchi rosa il famoso gronchi rosa che fu così reso pubblico con un'imperfezione nei confini del perù quando il presidente gronchi fece visita a questo paese dell'america latina a fondo pagina abbiamo una notizia di cronaca un'auto si è sfrenata ieri in viale 12 settembre è data a sbattere contro il muro di una casa non c'era nessuno dentro la polizia è riuscita a rintracciare la proprietaria che poi ha rimosso l'autoveicolo per fortuna non è successo nulla di grave alle persone vediamo le altre notizie siamo sulla valmetauro ricordiamo che in questi giorni si ricorda in modo particolare la liberazione del campo di concentramento di sterminio di auschwitz siamo nel giorno della memoria e si ripetono un po anche sui quotidiani gli episodi che videro questo momento tragico anche nel nostro territorio per fortuna ci furono esempi eclatanti di correttezza di pietà di altruismo nei confronti dei perseguitati il re del gelato e inventore dell'algita nascosto in casa dell'antifascista grilli è accaduto a fossombrone e la città oggi commemora la figura del concittadino che protesse l'ebreo wisner e sua moglie si tratta di buonasera grilli antifascista costretto a lunghi anni di carcere di confino commissario politico della brigata bruno luglio era un uomo di cuore un uomo che protesse una famiglia era una persona generosa infatti buonasera insieme all'ebreo che parlava perfettamente tedesco si recò in bicicletta al comando tedesco di fano dove riuscì a sottrarre un modulo con il quale entrarono tutti i due e lui e l'ebreo nel carcere di fossombrone per liberare la moglie edith la donna proveniente dalla slovenia si pensò fosse morta poiché era incappata in una sparatoria tra partigiani e tedeschi addosso al corpo della donna era stato rinvenuti documenti di edith che a sua volta era riuscita a cambiare identità fino a trovarsi nel carcere di fossombrone dunque una vicenda che potrebbe essere la trama di una sceneggiatura cinematografica ma in realtà era accaduta sul serio uomini quindi dotati di grande coraggio ma di grande anche senso etico di senso morale in un momento in cui la morale l'etica era completamente scomparsa e si parla di sinagoga anche a mondolfo perché c'è stata una visita del rabbino italiano americano jeffari montanari con il consigliere giacomo rossi ad apecchio ricostruire la sinagoga di via fratelli rosselli questo è il progetto e farla valorizzare compiutamente all'interno di un itinerario ebraico marchigiano un progetto sul quale la regione marchi si è impegnata con una specifica mozione dunque un itinerario sull'ebraismo sugli edifici sugli edifici appunto che attestarono la presenza degli ebrei nel nostro territorio un escurso storico ma anche un escurso appunto sull'etica e sulla morale per quanto accadde in un momento successivo e veniamo anche nella pagina di senigallia vediamo qual è la notizia che viene evidenziata ebbene è quella di risorse economiche dedicate al mondo della sanità fondi regionali per ospedale strade ponte garibaldi entra tra le priorità subito inizieranno i lavori per la strada della marina e l'area portuale possibili 10 milioni per il nosocomio per l'ospedale e sono arrivati fondi per sistemare la strada della marina e l'area portuale inseriti ieri con un emendamento nel piano triennale delle opere pubbliche che insieme al nuovo ponte garibaldi e alla scuola puccini vedranno appunto lavori in corso il bilancio all'esame del consiglio comunale ha provocato anche scintille tra il sindaco e il consigliere bonprezzi infatti il partito democratico ha contestato il fatto che la nuova scuola prevista nel 2024 sarà realizzata a montignano e non a marzocca in un punto più centrale al servizio di entrambe le frazioni a sud di senigallia e poi c'è anche un altro emendamento un altro emendamento che ha riguardato l'inserimento di 150 mila euro di fondi arrivati dalla regione per il summer jambori insomma la manifestazione principe di senigallia veniamo anche la pagina di pesaro dove si gioca la partita del san domenico questa grande e bella chiesa dove inizia via branca l'iter si è sbloccato ora si potrà lavorare al progetto di riqualificazione e successivo appalto e successivo appalto sto guardando se san domenico è quello che dico io oppure è un altro edificio no no è quello perché si parla del mercato delle erbe ora si potrà lavorare al progetto di riqualificazione e successivo appalto il vice sindaco daniele vimini ha detto che punto di forza è il recupero del chiostro del mercato delle erbe un complesso che una volta faceva parte del convento appunto annesso alla chiesa questa chiesa che è bellissima questa facciata gotica appunto all'inizio di via branca sicurezza per la galleria roma invece però i controlli scarseggiano commercianti e condomini chiedono interventi l'agenda è al consiglio di quartiere a distanza di mesi nulla è cambiato contro situazioni e rischio per bivacchi notturni episodi di vandalismo quasi 100 firme erano state raccolte qualche mese fa per attirare l'attenzione sulla sicurezza del complesso e ora si torna alla carica si torna ancora al ribalta si chiede un consiglio di quartiere straordinario il primo febbraio prossimo questo organo quando si riunirà sarà chiamato a intervenire per ripristinare la sicurezza e interverrà anche l'assessore delegato appunto al settore Enzo Belloni giriamo ancora le pagine e vediamo che il modello di turismo che dura da 50 anni guai a farlo saltare il presidente nazionale della CNA ieri era presalo si tratta di Dario Costantini che ha portato il suo saluto soprattutto ai concessionari di spiaggia alle prese con il problema della direttiva Volkestein ebbene a questo proposito c'è stato un progresso il Consiglio di Stato nella ultima seduta del 13 gennaio ha escluso l'applicazione automatica e generalizzata della direttiva cosa che invece aveva approvato lo stesso Consiglio però un altro settore nei giorni precedenti e quindi è stata ribaltata questa sentenza una sentenza che decreta l'inapplicabilità della direttiva Volkestein ai rapporti concessori ovvero alle concessioni che erano state concesse prima del 2009 anno in cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva dell'Unione Europea Scogliere è a caccia ai finanziamenti con due progetti il Comune presenta alla Regione lavori per un milione di euro dopo Ponente si interverrà anche a Levante e a Sottomonte per proteggere il litorale Sport Village finisce in Regione la stangata sulla bolletta del gas in questo caso vediamo come i giornali quasi tutti i giorni evidenziano l'aumento smisurato delle bollette energetiche in questo caso vediamo che l'ultima bolletta dei due mesi finali del 2021 per lo Sport Village ammonta a 107 mila euro 107 mila 568 mentre nei due mesi dell'anno 2019 e 2020 era pensate soltanto di 37 mila euro pensate quale aumento smisurato hanno subito in due anni queste bollette bar, ristoranti e locali diventano presidi di sicurezza per le donne c'è stato un accordo a questo proposito tra il FIPE e la Polizia il FIPE è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Polizia per formare personale e titolari a contrastare la violenza di genere e le donne che lavorano nei pubblici esercizi nei bar, nei ristoranti spesso sono le vittime più abbordabili da parte dei malintenzionati è perché magari girano tra i tavoli e sembrano più disponibili oppure perché terminano il loro lavoro di sera, di notte quando magari uscendo dal locale non c'è nessuno in questo caso questo accordo tuttila maggiormente la loro sicurezza e vediamo anche la pagina di Urbino sede non pronta e inadeguata a Sasso il nuovo commissariato non si deve fare hanno protestato in questo senso ieri una ventina di agenti di Polizia sostenuti anche dal loro segretario ovvero Lanzi Regione Comune ci aiutino l'ubicazione del nuovo commissariato insomma viene rifiutata dagli stessi agenti e vediamo ora la pagina del resto del Carlino a partire dalla pagina di Fano dove ritroviamo l'articolo che riguarda marche multiservizi il cui progetto di fusione con l'Aset esce allo scoperto noi con Asset ecco le garanzie e in questo articolo vengono esposte dunque tutte le novità tutte le offerte che l'azienda pesarese fa a quella fanese mercato decimato ci conviene stare a casa oggi si parla del mercato una delle edizioni per esempio ieri si è svolto di nuovo il mercato in piazza 20 settembre ma questa fotografia mostra come larghi vuoti si sono formati dove in precedenza c'erano tante bancarelle mercato decimato ci conviene stare a casa molti stalli vuoti in piazza 20 settembre diversi ambulanti sono in quarantena e altri hanno approfittato del poco movimento per riposare a che serve venire a patire il freddo hanno dichiarato uno ha detto io oggi ho incassato soltanto 70 euro in tutto insomma la gente c'è poco movimento poco shopping c'è paura negli occhi della gente non solo per il covid ma anche per tutti i rincari comunque al mercato si trovano sempre occasioni capi a poco prezzo insomma e anche capi in buono stato insomma dei prodotti molto appetibili noi infedeli ma latari la mandano loro è una testimonianza quella pubblicata dal Carlino Oggi di una cittadina fanese che ha ricevuto un accertamento per quanto riguarda il pagamento della Tari si tratta di Francesca Ferrari le chiedono 440 euro per gli ultimi 5 anni ma perché dice se io ho fatto le dichiarazioni per quanto riguarda l'ampiezza del mio appartamento così come me l'aveva documentate il catastro protestano dunque i cittadini all'arrivo degli accertamenti l'UDC insiste da decenni i bollettini sono precompilati il comune chi accusa dice perché se la prende con i cittadini ma qui non si capisce perché il comune non attinga direttamente i dati catastali di una casa su cui poi applicare la Tari al catastro invece invita i cittadini a fare autodenunce questo potrebbe far sì che magari qualcuno sbagli qualcuno ci giochi sopra è vero certo però si potrebbe ovviare a tutto andando direttamente al catastro e poi abbiamo l'aspettando l'italiana in Algeri l'opera che verrà rappresentata al teatro della fortuna giovedì e sabato della prossima settimana giovedì per i giovani sabato invece per il pubblico un'interpretazione in chiave gestistica domenica prossima nella Sala Verdi alle ore 17 dell'opera di Rossini a cura di Alessandro Lanzoni una giovane una stella del pianoforte che già ha avuto tanto tanto successo a livello internazionale a Barchi si parla ancora del biodigestore il progetto va avanti sono state chieste ulteriori integrazioni ma la conferenza dei servizi procede tra favorevoli come la regione e contrari come il comune e qui vediamo una bella foto appunto del sito dove dovrebbe essere realizzato l'impianto vaccini annullato l'open day a Marotta per recuperare quelli col green pass in scadenza l'unico appuntamento confermato in città rimane quello di lunedì 31 gennaio con il camper e poi vediamo un'altra notizia sul resto del Carlino sulla pagina di Urbino dove si parla appunto della Fano Grosseto e dell'incontro che l'assessore Baldelli ha avuto al ministero con i tecnici dell'ASET gli enti locali si sono astenuti all'unanimità sull'opzione presentata durante la dunanza si riprenda il tracciato indicato dalla provincia comunque la Fano Grosseto va verso le due corsie raddoppiabili ovvero quattro corsie e poi la protesta degli agenti di polizia per quanto riguarda l'ubicazione del commissariato al Sasso no grazie hanno detto gli agenti e si pongono in trincea insieme a tutti coloro che aderiscono al SIULP al sindacato appunto di polizia incubo processionaria boschi a rischio si mettono le mani avanti per la prossima primavera quando si risveglieranno le processionarie ed è l'esperto Antonello Collesi che parla e dice che a primavera i bruchi escono dai loro nidi costruiti nelle piante di pino portandosi da un albero all'altro sono pericolose perché sono particolarmente urticanti e poi sono anche pericolose soprattutto per gli animali i cani che vanno lì a ruzzolare con le loro zampette spesso con il loro muso e quindi vengono colpiti da questi animaletti di cui qua vediamo una fotografia per quanto riguarda Pesaro sul resto del Carlino si parla ancora dei provvedimenti assunti nel centro storico dove vengono esclusi certe attività di carattere etnico ma è bufera guerra al kebab e stop ai bazar e bufera intitola il giornale una scelta provinciale e una discriminazione nel mirino sono dunque i provvedimenti assunti dal comune che ha vietato nuove aperture di varie attività straniere nelle vie principali del centro Mei Lin che è un infermiere figlio dei proprietari del ristorante cinese di via Baviera dice un'assurda equazione tra l'etnico e la mancanza di decoro insomma non è detto che tutto l'etnico sia mancanza di decoro e fare di tutta erba in fascio è ingiusto vediamo qui anche un'altra aggiunta a questo argomento un altro articolo questa città è già multietnica non è giusto mettere regole così lo dice Medima Sabanovic che viene dalla ex Jugoslavia ed è la titolare di un ristorante tipico bosniaco io non credo che sia razzismo ha dichiarato ma di vieti come questo limitano troppo siamo nel 2022 quando certe cose dovrebbero essere superate afferma appunto questa signora e qui si ribatte ancora sul rincaro sul carovita diciamo meglio di tutto ma non c'è il settore che non ha subito rincari in questo particolare si parla dei canoni demaniali che batosta anche qui costi assurdi così creano l'elite del mare perché ci sono queste piccole associazioni di amatori del mare di appassionati della vela che così con la loro pensione si dedicano ad un passatempo e sostenere rincari costi moltiplicati per ormeggi e occupazioni del suolo pubblico alla fine vanifica tutto il loro passatempo e quindi sono in rivolta rivolta a delle associazioni del porto Galeppi e la Darsena ormai è vuota ha dichiarato guardia medica ancora chiusa ci sarà solo nei fine settimana e vaccini agli over 50 lo zocolo duro resiste nell'ultimo mese convinti nemmeno 2 su 10 sono i due articoli che riguardano l'argomento della sanità sono due pagine una fronteggiata all'altra e vediamo come qua il problema della guardia medica venga ancora posto alla ribalta anche per il mese di febbraio resta attiva la procedura di emergenza ovvero bisogna chiamare il 112 perché la guardia medica non è disponibile mentre qua vediamo che i vaccini degli over 50 conservano uno zocolo duro che non si riesce a convincere per quanto riguarda le vaccinazioni nemmeno 2 su 10 hanno avuto il vaccino dall'8 gennaio è entrato in vigore l'obbligo per i nati prima del 1972 dal 1 febbraio scatteranno anche le sanzioni dal 15 il green pass rafforzato sarà necessario per lavorare queste le ultime gli ultimi provvedimenti le ultime regole per fronteggiare la pandemia un articolo da leggere su cui magari ognuno può fare le sue riflessioni le sue considerazioni qui abbiamo l'articolo che riguarda la violenza sulle donne il patto tra locali e la polizia per le lavoratrici negli esercizi pubblici e concludiamo la nostra rassegna stampa sulla cronaca con un'altra notizia di sanità ci vacciniamo meglio la puntura della DAD a Montecchio ci sono state molte somministrazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni si sono presentati in 80 molti assenti a causa delle quarantene qualche piantarello così soprattutto più per la paura che per il dolore ma sono stati tanti i bambini che hanno assunto il vaccino caso Cusumano la vis pensa al ricorso siamo allo sport la società potrebbe chiedere uno sconto per le frasi rassiste puntando sulle scuse presentato dal giocatore insomma un provvedimento che la Lega ha assunto nei confronti di Cusumano considerevole 10 giornate di squalifica Roberto Bizzocchi dice io stavo per picchiare un arbitro in certi momenti perde le staffe è grave ma poi si chiede scusa sono episodi che comunque non dovrebbero accadere mentre il Fano si prepara a fronteggiare il Vasto però senza tifosi lo stadio di Vasto resta inagibile oggi atteso il risponso per Manet ma Carcali si è pronto a fare il suo esordio catalano tanti contrattempi non ci volevano per una gara così delicata insomma si giocherà a Vasto con uno stadio deserto non ci saranno né tifosi del Fano Calcio né tifosi terramani e abruzzesi e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata